Ecco i nostri inviati da Torino che ci raccontano come è andato l'incontro variatrico di oggi. Un incontro interessante come al solito, persone nuove e vecchie, già conosciute. Bentornata da Torino. Ah, grazie. Abbiamo fatto il nostro incontro a Torino, è stato secondo me un successo. Assolutamente. Una giornata ricca di emozioni, di persone che si sono aperte e raccontate, anche se era la prima volta che ci vedevamo. Cosa che è stata detta da chi c'era, non avrei mai immaginato di fare un pranzo con persone che non conoscevo minimamente, di un gruppo di cui non conoscevo nessuno e parlare così apertamente, così liberamente, senza neanche pensare a cosa potrebbero pensare gli altri, di quello che dico, senza farci, mi sono proprio aperta come se fossi a casa. Si sono creati dei legami subito, è vero che con alcuni c'era già un po' di conoscenza perché diciamo che ci siamo un pochino confrontati sul canale Telegram. Trovarsi di persona è un'altra cosa ed è proprio bello. Questa cosa ci spinge a tutte e due, sia a me che alla Fra, a progettare i prossimi incontri, ad aver voglia di vedere ancora le persone, altre persone, vecchie, nuove, ma di poter fare questo percorso ciclicamente confrontandosi con gli altri. Perché a quel tavolo tutti, tutti, tutti hanno portato qualcosa. Ma che poi non è che tutti si sono confrontati con te o con noi, io sono un po' marginale, però si confrontavano gli uni con gli altri. Non c'era un Alessandro in cattedra e tutti che pendevano dalle sue labbra, c'era proprio il confronto, cioè come se fosse un… Un confronto diretto alla pari. Sì, come se si stesse parlando tra amici, amici intimi, amici di quelli veri, sui problemi di tutti i giorni, dalla paura di lasciare i figli durante l'intervento, nonostante abbiano una discreta età e qualcuno abiti pure… In un altro continente. In un altro continente. Ciao. La paura di cosa mangio, la paura di… mi hanno trattato così, piuttosto che mi hanno… Cioè… Ho una dieta strana stranissima. Voi cosa ne dite? Sì. Vorremmo vederla, quella dieta. Sì, perché è proprio strana, stranissimissima. Issima. Insomma, fare questi incontri a me arricchisce tantissimo. Anche a me. E quando finiscono il pensiero corre già al prossimo incontro e la voglia di organizzarlo e di vedere persone nuove e meno nuove e di continuare a scambiare esperienze e idee. Quindi, il mese prossimo, aprile, l'idea è di fare un incontro in terra camuna. Che è simile alla terra santa. Ecco. Mezza… mezza brisciana. Mezza camuna. Camuna, calma. Un respirone. Quindi giochiamo quasi in casa. È comodo per il portafoglio. È comodo perché sappiamo dove fare base, sappiamo come muoverci. Aprile, incontro in Camulandia. Camulandia che potrebbe essere anche bassa Valcamonica in modo che si riesca a raccogliere Brescia e Bergamo che potrebbe essere l'overe. Potrebbe essere un'idea. Che non è Camuno, ovviamente. Ancora Bergamo, però. Però. Due paesi dopo è già Camulandia. Camulandia. Ok. Quindi adesso ragioniamo un attimino sui dettagli, ma a breve partiranno, come si dice, partirà la campagna per il prossimo incontro. Ma andiamo in campagna, andiamo in Camunia. Camunia. Campania. Prima o poi ci dobbiamo arrivare. Prima o poi ci dobbiamo arrivare. Dobbiamo preparare il porcellino. Ma noi in realtà non abbiamo il porcellino, ma abbiamo questa, che è vuota. E qualcuno si è anche permesso di togliere un coricino. Chi è stato? Che qui c'è della colla a caldo inutile quando c'era un coricino. Chi è stato? Una delle tue figlie. Ah sì, sì, certo. Perché le tue dormivano. Assolutamente. Sì, va bene. Sugli incontri. Non credevo che sarebbero state qualcosa di così bello e così intenso. E così emozionante, così liberatorio per tante persone. Sì. E così rilassante, perché ti rendi conto che si è tutti sulla stessa barca. Chi prima, chi dopo. È una barca lunga, ma siamo tutti lì. Sì. E la cosa bella è che non sono più io che racconto la mia storia, che è una storia. Sicuramente fa statistica. Mi prude il naso. Mi prude, non posso grattarmi dopo. Faccio? Faccio così. C'era la polvere sul porcellino. Cioè quanto tempo è che non mettiamo soldi lì dentro? Io, vabbè, quanto tempo è che non ho soldi fisici nel portafoglio io? Il bello degli incontri è che non è solo la mia esperienza, ma intorno al tavolo c'è l'esperienza di tutti gli altri in attesa dell'operazione e già operati che raccontano la loro. E tutto sommato ci sono dei punti comuni per tutti. Il fatto che tutti una volta fatto sono contenti, tutti una volta fatto stanno molto meglio, tutti una volta fatto fanno coraggio agli altri. quindi sento anch'io la polvere. E quindi è molto molto importante e bello farli partecipate. Abbiamo capito anche che non si possono fare con troppe persone. No. Abbiamo capito che non più di... 20. 20 è proprio già... Perché se non ti guardi... Sì, non riesci... Ma non noi non parliamo con gli altri. Tra tutti non ci si riesce a incastrare in modo da avere un contatto con tutti. Esatto. Invece il bello è stato... No, ieri eravamo in 12 ed è stato perfetto. 12, 15 al massimo. Perché così anche l'ultimo del tavolo riesce a parlare con il primo del tavolo. Ci si incrocia, ci si scambia. Ci si racconta storie, esperienze, consigli. Bello, veramente bello. Sì, sì, sì. Il fatto di mangiare insieme è una... Pensavo all'inizio fosse semplicemente collaterale al trovare un posto con un tetto che così se piove, se c'è il sole, ci si trova. E invece no. Invece no, è importante perché si vede che si riesce a mangiare normalmente al ristorante. Chi è in attesa dell'operazione, che ha tutte le domande e i dubbi sull'operazione, è vedere noi operati, noi veterani, come ci comportiamo al ristorante, che ci comportiamo alla fine in un modo normale, come spieghiamo ai carmerieri che ci guardano con due occhi così perché non prendiamo da bere o perché ci mettiamo un quarto d'ora a finire dieci arrosticini. Un quarto d'ora, non ci ho messo un'ora a finire dieci arrosticini. Insomma, aiuta e fa anche quello. E i posti che cerchiamo non sono posti dove si mangia benissimo, non sono posti fighi, non sono posti in centro, sono posti dove c'è posto, dove non c'è la musica alta, dove è accolta la chiacchiera. Conviviali. Bravo. Conviviali. Ho studiato il vocabolario stanotte. Hai fatto bene. Posti che promuovono la convivialità. Quindi si può stare in compagnia a chiacchierare. Il fatto è che intanto si mangia è collaterale e serve a chi è in attesa di intervento per vedere come funzionerà dopo. Cioè, benissimo e senza problemi. Questa è la cosa importante. Detto questo, qui sotto ci sarà il modulo che vi chiedo di compilare se siete interessati a partecipare a questi incontri. non mi interessa se siete vicini o se siete lontani, perché in base a quante persone in tutto il territorio nazionale o tutto il globo... Terraqueo. Fantastico. Nel momento in cui sappiamo da dove siete e nel momento in cui abbiamo un'idea di dove ci sono più persone, noi cerchiamo di organizzare gli incontri in quelle zone in modo di raggiungere più persone possibile, mettere insieme più persone possibile. Quindi, voi compilate il modulo anche se siete dall'altra parte d'Italia. Resta l'informazione. Il cambiamento in Sicilia lo rifarei. Anch'io. Se non fosse, ribadisco, se non fosse un problema economico, avremmo già programmato tutti i mesi, ci facciamo un tour dell'Italia fantastico. Conoscendo persone fantastiche. Compilate il modulo e poi, man mano che verranno organizzate degli incontri vicino a voi, riceverete da compilare un secondo modulo con le specifiche di quell'incontro e potrete dire vengo, non vengo, vengo da solo in 5, in 8, in 10, sono in dieta liquida, semiliquida, solida, mangio gli elefanti, gli elefanti mangiano me. Hanno capito. Hanno capito? Sì. E quindi poi potrete dire vengo, non vengo. Ci vediamo ai prossimi incontri, al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, lasciate i vostri domande, commenti, idee, proposte, quello che volete sotto nei commenti. E c'è anche il gruppo Telegram che è bellissimo. Sì. Fateci un giro. Se volete. Qui sotto trovate anche il link per iscrivervi. Perché no? Potete cercarci su Facebook, Instagram, anche se lo odio, non mi trovo molto bene, però c'è. Trez, che mi piace molto di più, ma non ci si caga a nessuno. E insomma, cerchiamo di rimanere in contatto. Sicuramente il canale principale è YouTube, il canale secondario per interagire tutti i giorni è Telegram e tutti gli altri sono di corollario e contorno, ma ci sono, esistono. Detto questo, ciao a tutti e al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie.